cari amici ci troviamo al teatro dei servi nel centro storico di roma per uno spettacolo straordinario che sarà in scena fino al 19 febbraio si chiama faccia un'altra faccia con tiziana foschi che io saluto ecco la mia faccia stasera e con antonio bisu e ciao a tutti questa la mia non posso farci niente allora tiziana si torna a teatro la cosa è molto bella il pubblico questo affetto che tanta gente comunque dai tempi della premiata ditta ti segue e voi sono quasi 35 anni di teatro paura è strano perché io ne ho 27 vabbè non facciamo numeri comunque sì con tutti i miei vecchi personaggi e anche personaggi nuovi in scena porterò circa una dozzina di personaggi e poi tante situazioni molto fighe qua di uvate il presentatore il presentatore di uva di uva tagliate wow da non sciogli lingua grazie togli un po' grazie a tutti 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 Scusi a dottore Perché ho il fiatone Sono venuto qui tanto di corsa Quello è il classico tipo Che stava meglio che la mascherina Sì va bene Allora vogliamo ricordare Anche il testo scritto da Antonio Piso Tiziana Foschi e Francesca Zanni Regia di Antonio Piso Tra l'altro possiamo dire che insomma Tuo papà è Raffaele Piso Un grandissimo personaggio Che noi abbiamo intervistato Come ti dicevo nel corso degli anni passati E che comunque Tu fai parte di questo spettacolo Proprio dando il là Essendo comunque Non dico spalla però Sei il presentatore Il presentatore che si relaziona Con questo personaggio Che fa tutte queste facce strane Possiamo dirlo Possiamo dire pure Che canta D'addio Suona Vabbè adesso Un romanzo finalista Per una strega Insomma Segnatelo eh Segnatelo Sento i brividi A traversare tutto il corpo Quando lo vedo Sento i farfalle Nello stomaco Quando lo vedo Che volano Che volano Che volano Tanto sognate Esatto Intanto vi invitiamo qui Ripetiamo Fino al 19 febbraio Al teatro dei servi Per farvi Vedrete delle facce Vedrete delle musiche Vedrete una scena Per passare una serata Comunque bella Divertente Uscendo dalla monotonia E chissà Se riconoscerete La vostra di faccia Ha 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 Che diri Ha fatto la chiusura così E con la risata Che dire Io Chissà 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 Venite per credere E per vedere Queste facce Io ringrazio e saluto Antonio Piso Grazie Grazie mille E buona serata E Tiziana Foschi Buona serata Buone facce Da Sandra Alessio è tutto Alla prossima Buona serata